...e' essenzialmente valore di semplificazione. La maggior parte delle nostre azioni per il suo frutto è della comunicazione degli elementi che concorrono a formarle. Le opere dei Santi che i segoli hanno rispettato, furono sempre contrassegnate da questo carattere di semplicità. Tra l'altro non è che è fede, è fede esalta nella providenza, con ogni riconzione di possibili umane preoccupazioni. Si gettino le basi della compagnia di San Giuseppe, sopra un terreno stabile e ferme, non in base a un'esercizio.